Ciao ragazzi e benvenuti in questo video. Voglio aggiornarvi velocemente su delle novità che Adobe ha aggiunto all'interno dei software principali per la fotografia. Mi sto riferendo a Photoshop, Camera Raw e Lightroom, versione classica. Infatti le novità riguardano la selezione in generale di qualche componente all'interno della fotografia, vedremo di cosa sto parlando e tralascerò ovviamente tutte le altre funzioni che sono un po' secondarie secondo me e soprattutto inutili, in quali ad esempio l'aggiornamento dei filtri neurali di Photoshop che probabilmente nessuno usa o che usano le persone all'inizio. Sono state migliorate ovviamente le prestazioni dei software, così come anche la resa dei gradienti su quello che è Photoshop. L'aggiornamento riguarda diciamo la stessa funzione su tutti e tre i software, quindi vedremo ogni singola funzione su un software, così praticamente possiamo andare a capire meglio di cosa stiamo parlando. Iniziamo da Camera Raw, vi dico che la stessa funzione è presente in ugual modo anche su Lightroom, dato che comunque i programmi si interfacciano tra di loro. Se vedete qui al lato ovviamente abbiamo il menu di regolazione selettiva, vi ricordate che c'era praticamente la possibilità di mascherare all'interno dell'immagine con gradienti eccetera? Ecco, se vado a premere su questo strumento, guardatemi si apre un menu nuovo. Questo menu include diverse funzioni, quali seleziona soggetto, seleziona cello, ovviamente c'è anche pennello, sfumatura lineare, sfumatura radiale, quali c'erano già prima, intervallo colori e intervallo luminanza. Questo è davvero pazzesco perché ci permetterà di fare cose all'interno della fotografia che prima potevamo fare solo tramite l'utilizzo di Photoshop, così come tramite l'intervallo colori. Iniziamo in questo caso, siccome ha aperto questa foto, con la selezione del cielo. Se andiamo a premere sullo strumento, esso inizierà ovviamente a caricare, il software farà tutta l'elaborazione e vedete che mi si apre un pannellino che mostra appunto il cielo selezionato. Questo mi permetterà di effettuare delle modifiche all'immagine. Innanzitutto sto visualizzando quella che è la mascheratura, possiamo scegliere anche che tipo di maschera dà il colore, aggiungere componenti alla maschera tramite gli strumenti ovviamente che sono presenti già in questa funzione, quindi possiamo anche aggiungere un soggetto alla selezione, possiamo aggiungere tramite un pennello, componenti alla selezione, possiamo aggiungere un intervallo colori o sottrarre dalla selezione. Guardate, possiamo sottrarre dalla selezione del cielo, magari, che ne so, il rosso di un tramonto e mantenere solo il cielo più azzurrino. Praticamente, se tolgo quindi di mostrare la sovraimpressione, noi possiamo andare a lavorare, guardate, sul cielo. Diciamo un po' come potevamo fare prima su Photoshop, ma non perfettamente su quello che è Lightroom. Guardate, posso simulare una sorta di effetto tramonto, semplicemente andando a lavorare in maniera selettiva su quelli che sono i colori. Possiamo poi cambiare ovviamente anche la tonalità e questo ci permetterà appunto di aumentare un po' l'esperienza di editing all'interno di quello che è il software stesso. Nascondiamo un attimo la maschera e creiamo una nuova maschera, questa volta con intervallo colori, perché appunto, essendo che noi vogliamo lavorare anche sulla riflessione del cielo all'interno dell'acqua, semplicemente campioniamo quello che è un colore, e guardate, ci fa una selezione, possiamo aumentare o diminuire il range di selezione. Questo non è altro che la, diciamo, funzione intervallo colori presente su Photoshop. E adesso, che quindi ho la mia nuova maschera, guardate, se faccio le stesse modifiche di prima, praticamente, sto andando a toccare tutto quello che riguarda l'azzurro. È vero che si poteva fare lo stesso anche con la correzione colore selettiva, però in questo caso quello che è interessante è che noi possiamo andare a mascherare, praticamente quindi abbiamo questa sorta di gestione di livelli, infatti possiamo aggiungere e sottrarre alla maschera tramite appunto un pennello, una sfumatura lineare, radiale, eccetera, e quindi questo è davvero molto interessante. Chiuso Photoshop, passiamo a lavorare su Lightroom. Vedete che anche qui troviamo lo stesso strumento di mascheratura. Al proposito, non utilizzando spesso Lightroom, non mi ero nemmeno reso conto che avessero aggiunto l'opzione della storia finalmente, chissà dopo quanti aggiornamenti che le persone lo stavano richiedendo l'hanno fatto, andiamo adesso ad utilizzare quello che è il selezione soggetto. Questo appunto, come dice la parola, andrà a trovare tutti i soggetti all'interno della fotografia ed è davvero pazzesco a quanto ho visto la funzione di selezione. Non so perché in automatico va a cambiare tonalità, luci e esposizione. Non so se lo fa per mostrare una sorta di maschera o se è un bug, perché effettivamente basterebbe attivare semplicemente la maschera, probabilmente non lo so. Vi faccio vedere con uno zoom quanto è precisa la maschera. Guardate, praticamente ha selezionato il soggetto in maniera perfetta. Guardate anche qui dove ci sono comunque dei dettagli che potrebbero confondersi. Guardate anche sul pavimento, diciamo, il modo in cui va a sfumare l'ombra sotto al piede. Io penso che questo inizi già a sfruttare un po' quella che è la IA, se così possiamo chiamarla. Infatti davvero la selezione è pazzesca. Anche qui possiamo aggiungere e sottrarre alla selezione con i diversi metodi e poi effettuare quelle che sono appunto le correzioni che noi vogliamo fare. Ad esempio se il soggetto vogliamo farlo risaltare all'interno dello sfondo, ovviamente senza esagerare con le regolazioni selettive, noi possiamo andare ad effettuare quella che è la regolazione. Guardate in questo modo. Poi magari vogliamo creare una nuova maschera per la giacchetta gialla e qui ci possiamo avvalere dell'intervallo colore. Quindi semplicemente vado a selezionare la giacchetta. Guardate. Quindi cosa posso fare? Posso andare a lavorare adesso sulla maschera e aggiungere ad esempio alla maschera quello che è un altro intervallo colore per comunque andare a selezionare più porzioni. Quindi guardate. Noi stiamo selezionando la giacchetta ma stiamo selezionando anche un po' quello che è lo skin tone. Quindi sottraiamo ad esempio con un pennello quello che è diciamo tutta la zona che non ci interessa del viso. Quindi in questo modo. Quindi guardate. Noi praticamente stiamo effettuando la selezione di quello che è il viso e adesso con la maschera guardate stiamo selezionando ovviamente tolto anche l'orecchio solamente quella che è la giacca. Fatto questo se noi vogliamo cambiare il colore della giacca come vedete appunto possiamo farlo. Ovviamente possiamo migliorare poi la prima selezione quindi aumentando un pochino il range possiamo migliorare anche la seconda così praticamente diciamo riusciamo ad evitare questa bordatura gialla che possiamo andare a migliorare ovviamente aggiungendo sempre intervallo colore e poi ovviamente fare le nostre regolazioni. Quindi se vogliamo guardate una giacchetta più di questo tipo noi possiamo farlo. Quindi guardate. Praticamente questo è davvero pazzesco perché adesso ci permette di lavorare su quelli che sono dei livelli. Diciamo sarebbe ancora più interessante non so se si può fare lavorare proprio sulla maschera direttamente col pennello un po' come se fosse photoshop ma non penso che si possa fare se non appunto andando a lavorare poi sul livello del pennello stesso. Sempre all'interno di questa fotografia cancellate ovviamente le altre selezioni possiamo andare a selezionare l'intervallo di luminanza. Cos'è l'intervallo di luminanza? Praticamente con i colori selezioniamo solo quel determinato colore con più o meno tonalità rispetto al colore di partenza con l'intervallo di luminanza noi andiamo a selezionare un determinato range tonale di qualsiasi colore all'interno della fotografia. Questo cosa vuol dire? Avete presente la funzione blend if o meglio opzioni di fusione dei livelli di photoshop? Quando andiamo a selezionare o escludere determinate porzioni di un'immagine? Esattamente guardate qui al lato cosa abbiamo? Abbiamo la stessa funzione quindi possiamo selezionare da 0 a 100 i valori di luminosità che suppongo equivalgano a da 0 a 255 però appunto l'hanno fatto in una scala da 0 a 100 e questo ci permette di selezionare non solo un intervallo ad esempio di mezzi toni ma anche di sfumarlo tramite queste linguette laterali quindi una volta fatta la nostra selezione magari in questo modo possiamo vedere la maschera ovviamente li portiamo in stock non so se è un bug questa cosa devo scoprirlo praticamente noi possiamo disattivando la maschera andare a lavorare solamente sui mezzi toni è vero che questa cosa potevamo farla già tramite le curve ad esempio però è anche vero che in questo modo noi siamo molto più precisi e soprattutto possiamo lavorare su livelli quindi se vogliamo questa regolazione solo alle colonne noi andiamo sulla maschera sottrai utilizziamo lo strumento pennello aumentiamo la dimensione e vado a rimuovere tutta la regolazione che ho fatto ad esempio sia dal soggetto che comunque dalla parte in fondo quindi guardate abbiamo questa regolazione che posso andare comunque a continuare a regolare se ad esempio voglio includere un po' esatto un po' più di alte luci guardate ho schiarito un po' quella che è l'ombra di queste colonne magari prendiamo anche un po' di più le ombre quindi guardate io posso fare questa lavorazione la stessa cosa possiamo farla anche per altre immagini ovviamente inutile stare a farvi vedere perché appunto una volta viste le funzioni mettetevi lì e provate a fare queste cose ultima funzione che voglio farvi vedere all'interno di photoshop nella selezione del oggetto qui avevamo appunto prima tra gli strumenti di selezione rapida e bacchetta magica questa opzione adesso è stata aggiunta questa nuova opzione all'interno della barra ce ne sono diverse innanzitutto il tasto aggiorna e va a ricercare quelli che sono gli oggetti all'interno dell'immagine abbiamo poi un tasto che ci mostra tutti gli oggetti presenti all'interno dell'immagine quindi guardate se lo vado ad attivare guardate ha diciamo trovato all'interno dell'immagine tutti quelli che secondo il software sono degli oggetti sembra una buona selezione innanzitutto perché ha escluso l'ombra solo qui mi ha escluso anche parte di questo oggetto ci può stare per intanto se adesso vado ad utilizzare un selezione maschera praticamente ho già scontornato comunque un'immagine che avrebbe richiesto l'utilizzo della bacchetta magica in maniera complessa ad esempio non voglio parlare della penna perché ci sarebbe voluto tanto praticamente queste erano le impostazioni poi c'è possibilità di avere un aggiornamento automatico manuale possiamo poi scegliere il colore di selezione il contorno della selezione e l'opacità della mascheratura stessa quindi se vedere più o meno blu e in questo caso guardate quindi ho praticamente tutti gli oggetti all'interno dell'immagine adesso posso scontornare questa borsetta quindi non solo noi riusciamo a fare un selezione maschera di tutto quello che è evidenziato in blu ma poi praticamente se noi usciamo dal menu quindi dove abbiamo tutti gli oggetti selezionati noi possiamo ad esempio selezionare solo questa borsa quindi al momento se faccio partire un selezione maschera ovviamente non è velocissima la funzione però guardiamo un attimo guardate guardate quanto ci ho messo a scontornare questa borsetta ovviamente era già stata scontornata quindi diciamo ho facilitato un po' il lavoro al software poi queste cose le proveremo un po' meglio nel tempo però avete visto com'è davvero facile andare a lavorare sulle immagini guardate comunque è davvero una funzione pazzesca riduciamo un attimino un pochino il bordo oppure guardate possiamo aumentarlo per farci vedere un po' meglio davvero davvero secondo me una genialata cioè una cosa che può essere davvero molto utile magari proviamo su un'altra fotografia prendiamo ad esempio ovviamente diciamo le foto sul fondo bianco sono sempre abbastanza semplici però mettiamo caso che appunto noi vogliamo scontornare questa borsa vediamo come fa il lavoro quindi guardate questo è l'oggetto ovviamente se ci vado sopra riesco a selezionarlo quindi seleziono poi vado su selezione maschera mi sembra un po' lentina perché guardate non riesco ancora a premere adesso è andato ci vuole ovviamente un po' di tempo anche per ottimizzare le prestazioni il computer è abbastanza prestante però raga guardiamo il risultato magari riempiamo un attimino di bianco è vero che comunque sul fondo bianco è abbastanza semplice però a me sembra davvero un ottimo ottimo risultato cioè guardate qua praticamente diciamo l'ombra è l'unica cosa da ottimizzare però con la bacchetta magica secondo me ci sarebbe voluto molto di più per fare questo scontorno bene quindi queste erano le funzioni che hanno introdotto all'interno dei software ovviamente ci sono altre migliorie ma secondo me queste erano le più interessanti da farvi vedere perdonatemi il video breve spero sia breve però comunque volevo solamente farvi capire che c'è stato questo aggiornamento e comunque iniziate a provare queste funzioni perché sono davvero semplicissime bene se questo video ti è piaciuto io ti invito a lasciare un mi piace commentare qui sotto e iscriverti al mio canale ci vediamo sabato con un nuovo video nel mentre ti ricordo di seguirmi su Instagram dove appunto giorno per giorno condivido degli aggiornamenti un saluto a tutti ciao da Marco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti